Banchi Italia migliorano le stime sul PIL nel 2022 al 3,9% e per il 2023 allo 0,6% senza scenari avversi non ci sarà recessione, l'inflazione stimata quest'anno è in calo al 6,5%. 2022 positivo per i fin lines, traffico passeggeri in aumento del 13%, raggiunti i livelli pre-pandemici nel weekend la presentazione di due nuove navi superstar. Quadro nero per il trasporto container da Dreury e Alphaliner, annullate il 27% delle partenze sulla rotta Asia-Europa, indice composito dei noli, giù del 79% annuo. Il 40% delle posizioni ricercate nel mercato del lavoro è introvabile, il segretario generale del CNEL Francesco Tufarelli ai microfoni del TG News, necessarie nuove strategie. Riforma delle pensioni sul tavolo del governo, allarme IMSS nel 2050 rapporto lavoratori pensionati 1 a 1, sud donne e giovani, criticità croniche. Il ciclone TOR si abbatte sul weekend, temperatura in picchiata, neve in pianura al nord e a bassa quota al sud, venti forti e mareggiate specie nel basso tirreno. Buonasera, l'economia italiana viaggia meglio del previsto. Oggi Banca Italia ha diffuso nuove stime sull'andamento dei mercati con dati su inflazione e PIL migliori rispetto ai mesi scorsi. Il PIL nel 2022 ha raggiunto un più 3,9%, mentre per il 2023 le previsioni parlano di una crescita contenuta allo 0,6%, due decimali in più di quanto si pensava. Meglio del previsto anche l'inflazione, stimata quest'anno in calo al 6,5%, al 2,6% nel 2024 e al 2% nel 2025. Numeri migliori anche per il rapporto debito-PIL. Sulla base dei dati preliminari di dicembre, Banca Italia stima che nel 2022 il rapporto sia stato nell'ordine del 145%, da circa il 150% registrato nel 2021. Per tutte le proiezioni effettuate pesa comunque un'incertezza quanto mai elevata, condizionata pesantemente dall'andamento dei costi e dell'energia che hanno pesato per oltre il 70% sui processi inflattivi. Banca Italia stima anche che le misure governative adottate dal governo per contenere le spese di famiglie e imprese per l'energia abbiano inciso nella misura dell'1% sui dati del PIL, evitando quindi al momento la recessione. Spiragli positivi per l'economia globale anche dal Fondo Monetario Internazionale. Per la direttrice Cristalina Gheorghieva, intervenuta oggi al World Economic Forum di Davos, la situazione è migliore rispetto a due mesi fa, per cui anche per l'FMI non si escludono rivisitazioni sulle stime di crescita. Dobbiamo tuttavia rimanere ancorati a un sano realismo, ha spiegato la Gheorghieva, lanciando un appello affinché si eviti la frammentazione globale. Una riduzione degli scambi commerciali rischierebbe infatti di far perdere il 7% del prodotto mondiale lordo, pari a 7 mila miliardi di dollari. E mentre sempre da Davos la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde ha ribadito che la BCE manterrà la rotta della politica monetaria per contrastare l'elevato livello di inflazione, nell'economia reale l'impennata dei prezzi sta accentuando la forbice della disuguaglianza con poveri sempre più poveri e ricchi sempre più ricchi. I prezzi corrono e il 2022, anno nero per l'inflazione, registra una crescita dell'8,1%, il livello più alto degli ultimi 37 anni. Solo nel 1985, quando si toccò il più 9,2%, si fece peggio. L'impennata dell'inflazione impatta su tutti, ma di più sulle famiglie più povere. Il divario, con quelle più ricche, sfiora i 5 punti. A indicarlo sono gli ultimi dati Istat, che confermano la stima preliminare per il mese di dicembre scorso, quando l'inflazione è salita dell'11,6% nel confronto annuo e dello 0,3% nel confronto mensile. Il carrello della spesa, ovvero i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, sono cresciuti del 12,6% annuo. In generale, a spingere in alto i prezzi sono soprattutto i beni, in testa quelli energetici, ma anche gli alimentari. L'Istat ne calcola l'impatto e il divario nel 2022 sulla base dell'inflazione misurata dall'indice armonizzato dei prezzi al consumo, che nell'anno si attesta al più 8,7% e più 12,1% sulle famiglie con minore capacità di spesa, contro più 7,2% per quelle con maggiore capacità di spesa. La nostra è un'inflazione dovuta alla fiammata dei costi delle materie prime. La buona notizia, dice il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, è che il costo dell'energia sta scendendo e se si mantiene su questi valori, nel secondo semestre, l'inflazione si ridurrà in modo importante. Nel 2023 la domanda di petrolio potrebbe raggiungere i massimi storici. È lo scenario ipotizzato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia anche alla luce delle previsioni di ripresa della Cina dopo la fine delle restrizioni anti-covid e del rallentamento dell'offerta russa. Intanto in Italia si muovono a rialzo i prezzi dei carburanti alla pompa. Quanto al self, benzina e gasolio si attestano rispettivamente a 1,83 e 1,88 euro al litro, mentre in modalità ha servito i prezzi medi si aggirano su 1,97 euro per la benzina e 2,02 euro per il diesel. Proprio il caro carburanti è stato nelle ultime settimane tra i principali temi sul tavolo del governo. Le trattative avviate dall'esecutivo con le associazioni di categoria che rappresentano i benzinai, delusi dalle misure contenute nel decreto trasparenza, non sono servite a scongiurare lo sciopero indetto dai gestori per il 25 e 26 gennaio. Non bastano le aperture del ministro Urso a scongiurare lo sciopero dei benzinai. Resta quindi la chiusura di 48 ore delle stazioni di servizio e anche dei self-service dalle 19 del 24 gennaio. Alla terza riunione sul decreto per la trasparenza dei prezzi, il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha messo sul piatto alcune modifiche, fermo restando l'obbligo di esporre il prezzo medio regionale, che sarà settimanale e non giornaliero e ad ogni variazione del prezzo, la chiusura dell'attività per omessa comunicazione avverrà solo dopo 4 omissioni in 60 giorni e non più dopo 3 senza limiti temporali. Altro passo del governo è stato far slittare di 10 giorni dalla conversione del decreto legge l'emanazione del decreto ministeriale che definirà le modalità di comunicazione e di esposizione dei prezzi. E poi per favorire la massima trasparenza è prevista un'app gratuita del ministero che consentirà di conoscere il prezzo medio regionale e con la geolocalizzazione anche il prezzo praticato da ciascun distributtore nel perimetro desiderato. Modifiche che hanno però deluso i gestori. Il tema lavoro rischia di diventare sempre più una criticità per il sistema paese, in particolare per la quota di inattivi, ormai giunta a quasi il 35% e per il sempre più elevato mismatch tra domanda e offerta che ha raggiunto ormai la cifra record del 40%. Evidente quindi la necessità di nuove strategie per il mercato del lavoro, come si desume anche dall'intervista che il nostro direttore Roberto D'Antonio ha fatto al segretario generale del CNEL, Francesco Tufarelli. Dottor Tufarelli, allora, segretario generale del CNEL, recente nomina, CNEL che studia proprio le politiche del lavoro. Ecco, l'Italia ha bisogno di un'altra politica del lavoro. L'Italia ha bisogno anche di istituti nuovi perché le esigenze del lavoro sono cambiate, perché il momento è complesso anche per le nuove sfide, anche le sfide connesse al PNR, anche le sfide connesse alla transizione energetica, anche le sfide connesse alla transizione digitale. Quindi evidentemente questo comporta un adeguamento dell'intero sistema, quindi anche nuovi istituti e nuove politiche, ma soprattutto un grandissimo raccordo con tutto quello che è il mondo della formazione e il mondo dell'accademia. Ecco, proprio su questo tema esiste un grande mismatch nel mondo del lavoro, specialmente per determinate competenze legate al futuro. Il 40% delle figure professionali in prospettiva non ci sono. Su questo tema come si sta operando? Sì, il dato preoccupante è che il 40% non ci sono e nel 2019 questo dato era il 29%, quindi evidentemente si è alzato in una maniera molto sensibile e quindi evidentemente bisogna tra virgolette correre ai ripari proprio con quello che dicevo, cioè con un coordinamento molto ampio che questa formazione la dà e anche lavorando su quelli che in questo momento sono occupati, che evidentemente vanno formati, perché soprattutto per quanto riguarda le competenze di carattere elevato, quindi non quelle di carattere medio, è probabilmente meglio lavorare su quelli che in questo momento già stanno lavorando e hanno magari una competenza media in una determinata materia. Ecco, su questo argomento nel mondo del trasporto e della logistica in determinati settori le percentuali sono addirittura più gravi, bisogna avere delle risposte immediate, c'è la possibilità di dover assumere personale straniero in tal senso? Beh, questa è una sicuramente delle ipotesi che sono allo studio, perché da questo punto di vista noi siamo in un mercato ampio, in un mercato sicuramente europeo, quindi da questo punto di vista è una cosa su cui abbiamo lavorato da tempo, bisogna studiare quali sono esattamente appunto le necessità e poi ci sono preclusioni ad ampliare la raggio del suono evidentemente della situazione, già lo si fa comunque con una certa tranquillità, noi siamo tra l'altro la sede di una serie di multinazionali che già impiegano, io stesso ho fatto il direttore generale di una multinazionale da italiano, non più di una quindicina anni fa. Ed è stato avviato intanto il confronto tra governo e parti sociali sulla riforma delle pensioni, una riforma che dovrà inevitabilmente considerare l'evoluzione demografica nel nostro paese e soprattutto l'andamento del mercato del lavoro con il tasso di occupazione italiano che resta tra i più bassi dell'Unione Europea. E mentre il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, ha evidenziato come nel 2050 ci sarà solo un lavoratore per ogni pensionato, un'indagine dell'Inap ha confermato invece l'immobilismo nelle carriere professionali. Per qualità del lavoro l'Italia si posiziona a metà della classifica dei paesi europei, presentando inoltre note criticità che penalizzano ulteriormente i lavoratori nel mezzogiorno, le donne e i giovani. Giovani che in Italia, ma anche in Europa, troppo spesso vengono penalizzati da impieghi di breve durata e stipendi troppo bassi. Salari bassi, peggioramento della qualità dell'occupazione, fuga di cervelli e stavolta non si parla solo di Italia. Se il 2022 ha registrato nel complesso un record per l'occupazione, per i giovani europei la situazione non appare così rosea. Secondo le informazioni raccolte dal consorzio d'agenzie che compongono la European Newsroom, il rimbalzo dell'economia europea seguito alla pandemia ha spinto la ripresa del mercato del lavoro, nonostante l'impatto della guerra in Ucraina. Dagli ultimi dati, Eurostat a novembre 2022, il tasso di disoccupazione nell'Eurozona è stato del 6,5% e del 6% in Unione Europea ai minimi dal 1998, data di inizio delle serie storiche dell'Istituto Europeo. I giovani però vanno in controtendenza. Il tasso di disoccupazione tra gli under 25 ha raggiunto il 15,1% a novembre sia in Unione Europea che nell'Eurozona. L'aspetto più sorprendente però riguarda il tasso di disoccupazione giovanile che si è attestato al 32,3% a novembre, il più alto in Unione Europea. Una fuga di cervelli tra le più rilevanti al mondo, definita preoccupante dall'economista che sottolinea come più della metà dei giovani intenda lasciare il Paese. In Italia la diffusione di forme di lavoro non standard ha contribuito a un peggioramento della qualità complessiva dell'occupazione, comportando anche livelli retributivi mediamente più bassi. Il combinarsi di bassa retribuzione oraria di contratti di lavoro di breve durata si traduce in livelli retributivi annuali decisamente ridotti. 2022 è più che positivo per Finlines. La compagnia finlandese del gruppo Grimaldi nell'anno appena concluso ha movimentato circa 650.000 passeggeri in aumento del 13% rispetto al 2021, raggiungendo sostanzialmente i livelli prepandemici. Buone notizie che arrivano a pochi giorni dalla presentazione delle prossime due ammiraglie classe superstar, la Fin Sirius e la Fin Canopus, che debuteranno nel fine settimana al Mitka Nordic Travel Fair di Helsinki, in una cerimonia dedicata. A partire dalla prossima estate, Finlines offrirà centinaia di partenze tra Finlandia e Germania e tra Finlandia e Svezia. Si prospetta ricco di insidie il 2023 per il trasporto marittimo di container. Le ultime rilevazioni di Dreuri mostrano un calo medio globale dei noli pari al 3% nell'ultima settimana con un crollo delle tariffe che sfiora l'80% nel confronto con lo stesso periodo dello scorso anno. Proprio per contrastare il calo dei noli, le compagnie marittime del trasporto container stanno riducendo l'offerta di stiva. Secondo la società di consulenza Alphaliner, nelle prime sette settimane del 2023, sulle rotte tra Asia ed Europa la stiva complessiva delle porta container si ridurrà del 27%. Ciò significa che su 196 partenze programmate già ora ne sono state annullate 53, un numero che dopo il 22 gennaio potrebbe addirittura aumentare a seguito dei festeggiamenti per il capodanno cinese. Veniamo ora agli aggiornamenti di carattere sanitario. Secondo il Ministero della Salute, che ha reso noti i dati della settimana 13-19 gennaio, si è registrato un calo di quasi il 40% nei contagi da Covid-19. Bene anche i dati relative ai decessi con una flessione del 14% crollano le vaccinazioni. Le somministrazioni anti-Covid in Italia, sottolinea la fondazione, restano al palo. Solo il 30% di anziani e fragili ha la quarta dose con nette differenze regionali, dal 13,6% della Calabria al 43,8% del Piemonte. Una diffusione dei casi in Italia che, fin dall'inizio della pandemia, si è mantenuta costante a livello geografico, pur se con differenze regionali, ma con l'epicentro che si è mantenuto sempre al nord, in particolare nella pianura padana. La mappa emerge dall'Atlante Covid-19, geografia del contagio in Italia, messo a punto dalle Università di Bergamo e Cassino, con i curatori Emanuela Casti dell'Università di Bergamo e Andrea Riggio dell'Università di Cassino, e presentato al CNR a un seminario organizzato dall'Associazione Geografi Italiani Lab Geonet. Quattro i fattori di rischio di propagazione individuati, inquinamento, mobilità e alta densità abitativa, tipo di assistenza sul territorio e presenza di RSA non protette. Si è aperto oggi a Rammstein base militare USA in Germania l'ottavo incontro del gruppo di contatto per l'Ucraina a guida USA, per coordinare ulteriori aiuti militari da inviare a Kiev. È un momento decisivo per l'Ucraina e per tutto il mondo, ha dichiarato il segretario della difesa americano Lloyd Austin, mentre il Kremlino, attraverso le dichiarazioni del suo portavoce Peskov, mette in guardia dalle conseguenze negative della decisione di fornire a Kiev carri armati pesanti. Intanto il nostro ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha annunciato il colloquio col suo omologo ucraino, allo scopo di concordare iniziative necessarie per sostenere il paese. Cambiamo argomento, proseguono le indagini dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro con perquisizioni a tappeto a Campobello di Mazzara. Ripulito e vuoto il terzo covo del boss mafioso. Il quadrilatero dove pare si muovesse il superlatitante Matteo Messina Denaro è tutto tra il rione guaguana vicino al cimitero comunale di Campobello di Mazzara e quello dello sperone. Un fazzoletto di case a due piani dove da lunedì si sono accesi i riflettori come fosse una scena da film e nelle ultime ore si è giunto un ulteriore tassello a quest'indagine che tenta di ricostruire i mesi di latitanza in paese. Forse un terzo covo, un immobile il cui proprietario vive fuori paese e dove al primo piano avrebbe abitato in affitto Andrea Buonafede con la compagna, almeno fino ad un anno fa, mentre a piano terreno gli ampi garage sono utilizzati come il ricovero di mezzi di un'azienda agricola. La perquisizione stavolta della polizia di stato ha riacceso i riflettori su quest'angolo del rione Sperone a poche decine di metri dal primo covo di Vicolo San Vito. Il focus degli investigatori pare dunque si sia concentrato tutto qui in quei due rioni del paese che si toccano e dove la vita scorre tra case disabitate e quelle invece dove vivono agricoltori, impiegati e liberi professionisti. Non c'è voglia di parlare tra chi passeggia in queste vie che magari anche il boss ha percorso in questi mesi. Stamattina il paese si era già svegliato con la notizia dei sigilli alla casa della madre di Andrea Buonafede. I residenti della zona hanno vissuto un'altra giornata col presidio dei carabinieri mentre nel Vicolo San Vito sono arrivati anche i cacciatori di Sicilia, un reparto dei carabinieri specializzato in perquisizioni e ricerca di bunker. Cambiaso Risso si espande in Germania. La società attiva nel brocheraggio assicurativo con una forte presenza mondiale nel settore marine da un anno associata ad Alice ha firmato un contratto per l'acquisizione del 100% di Trident Special Risks di Hamburgo. Questa nuova acquisizione consente a cambiaso risso di avere una presenza diretta sul mercato tedesco e raggiungere l'intermediazione assicurativa di 9.500 navi in oltre 20 paesi del mondo. Il gruppo nel 2022 ha raggiunto un volume premi totale di 440 milioni di dollari e ricavi netti per 57 milioni di dollari. Cantieri per le infrastrutture, riorganizzazione delle aree demaniali, sostenibilità ambientale, digitalizzazione e efficientamento energetico. Ricca l'agenda 2023 dell'attualità di sistema portuale del Martirreno settentrionale. Tra gli interventi su cui l'autority continuerà a lavorare nel corso dell'anno appena iniziato, la realizzazione della Dars in Europa, lo sviluppo del cold ironing e del piano del ferro. L'impatto del caro materiali è stato sicuramente pesante, ha spiegato il presidente Luciano Guerrieri. I costi per la realizzazione delle opere marittimo-portuali sono mediamente aumentati del 40%. Nonostante tutto siamo riusciti a sviluppare ulteriormente la competitività dei nostri porti. Vediamo ora in chiusura del nostro telegiornale quali sono le previsioni meteo per il prossimo weekend con il ciclone Thor che imperverserà sull'Italia fino a fine mese. Ci attende un fine settimana caratterizzato dal crollo delle temperature nevicate a bassa quota non solo a nord ma anche al sud. L'inverno vero giungerà così anche sulle regioni meridionali dove specialmente sul basso tirreno sono previsti venti di tempesta e mareggiate. Attesi forti piogge invece sulle isole maggiori. Era questa l'ultima notizia della giornata ringraziandovi dell'attenzione e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.